E' stato un colpo di fulmine quando ho visto la prima Nardi. Sembra ieri, ma sono passati 50 anni. E' la passione che ha fatto diventare Bonometti il più grande centro caravan d'Italia, con due importanti sedi a Vicenza e Trento. E' consolidato il ruolo di distributore ufficiale dei marchi Hobby e Fendt in Italia, Cina e Sud Corea. Un'esposizione, quella di Bonometti, di oltre 30.000 metri quadrati al coperto, dove trovano spazio più di 200 veicoli nuovi tra autocaravan e caravan delle migliori marche e 100 usati garantiti. Due officine all'avanguardia per l'assistenza e la personalizzazione dei veicoli. Due market accessori con migliaia di articoli per il viaggio e il tempo libero. Solo il meglio in termini di quantità e qualità di prodotti e servizi. Tutto questo per garantirvi standard sempre più elevati nell'assistenza, con la consueta e puntuale attenzione a tutte le vostre esigenze. Una forza fatta non solo di numeri, ma come ogni grande leader, garantita e tenuta in piedi dalla passione e dall'esperienza di un team affiatato di professionisti, dal service pre e post vendita, al commerciale fino all'amministrazione. Persone che ogni giorno si impegnano per darvi sempre il massimo dei servizi, prima, durante e dopo le vostre avventure. Persone che dedicano tutte le loro attenzioni a chi ama viaggiare, a chi vive con passione il tempo libero e a chi semplicemente considera la vacanza un piacere irrinunciabile da trascorrere nel comfort più assoluto. Perché un viaggio, ogni viaggio, merita di essere organizzato, vissuto e ricordato nel miglior modo possibile. Con Bonumenti da 50 anni non viaggiate mai da soli. È così che le vostre avventure continueranno a far parte del nostro futuro. Grazie. Grazie.